Ciao Italia, ci conosciamo da quando ho 30 anni, questa estate avrò 40, io vi amo, ricominciamo, ecco un altro lato di me. Quando la vita è molto difficile c'è sempre quella cosa lì del pianoforte. Dunque voglio spiegare perché faccio la musica. Ho ritrovato la gioia di scrivere, che avevo perso per un po'. C'era un momento due anni fa dove proprio pensavo che non potevo più farlo, che ero cambiato troppo. E dunque ho dovuto ritrovarmi perché ero triste. Ero triste come se fosse una relazione d'amore, sai, come un matrimonio, però non volevo il divorzio. E dunque la mia responsabilità era di ritrovare quel legame, quel fuoco. Era troppo importante per perderlo. E l'avevo perso per un attimo. Per un sacco di ragioni. Alcuni, colpa mia, e tanti, no. Vita, vita fa questo. Mi sono rimesso al pianoforte, ho ricominciato a scrivere, all'inizio era terribile, e poi è diventato bello. In questo periodo difficile ci siamo tutti chiesti perché stiamo facendo quello che facciamo. La mia maniera di rispondere è di veramente assumere questa idea di fare il pop niche alternativo, di raccontare ancora di più, di essere ancora più essenziale. Se è un po' fuori dai tempi, va benissimo. Se non è esattamente quello che c'è in radio, ottimo. Andiamo avanti. Se i vestiti sono un po' più poetici, perché adesso, per esempio, anche sul palco ho deciso di fare i miei vestiti, per tanti motivi, va benissimo. Dobbiamo anche essere liberi poetici, un po' anarchici nel nostro approccio creativo.